Bella a tutti ragazzi da GeneticDNA Questo video lo voglio fare per salutarvi In quanto io domani sera me ne vado qualche giorno in vacanza E quindi niente, voglio ringraziarvi tutti per i nuovi iscritti eccetera eccetera E quando torno spero di continuare qualche gameplay sulla Playstation 3 Perché adesso comunque anche se non ho la partner che non posso pianificare video Vi lascerò, caricherò qualche video stasera e qualche video magari domani sera Niente di speciale, non vado da nessuna parte Vado un paio di giorni fino a sabato sera Una piccola escursione in moto, qualche giro qua e là ma niente di non vado lontano Però niente, volevo solo salutarvi E visto che voglio rispondere a una domanda che mi stanno facendo Visto che ormai le next gen sono in arrivo Mi hanno chiesto GeneticDNA Tu quale opterai? Xbox One o Playstation 4? Allora il day one non prenderò né uno né l'altro In quanto ultimamente sono un po' sfigato Quindi vorrei evitare di, visto che le nuove generazioni, le nuove console Quando escono qualche volta hanno qualche problemino Quindi aspetterò un po' Magari qualche mese Qualche feedback Qualche feedback degli utenti che la prenderanno al day one Anche se io precedentemente con Xbox 360 e Playstation 3 Ho iniziato subito con Xbox e dopo qualche anno ho preso la Play Quest'anno farò il contrario Ovvero prenderò subito la Play 4 Cioè subito, dopo qualche mese E poi successivamente prenderò la Xbox One Questa volta Xbox One la prenderò solo per le esclusive Onde evitare casini di un po' di qua, un po' di là, un po' di giù E niente, quindi vi saluto E ci rivedremo domenica Domenica penso che farò qualche video del mio ritorno e quant'altro Spero che quando torno ho raggiunto i 500 Questa cosa mi fa veramente piacere perché sono a 480 Soprattutto merito anche di Beppe che mi ha fatto uno sponsor Quindi continuano ad arrivare le iscrizioni E niente, spero di non deludervi Di farvi vedere sempre cose nuove, sempre cose diverse E niente, qui è tutto da GeneticDNA Per chi non è andato in vacanza, che dovrà andare in vacanza Auguro buone vacanze Se no, buon lavoro a chi lavora E ciao ciao a tutti Al mio ritorno